Grazie a tutti 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 Buongiorno a voi tutti Ti posso dare del tuo anche se stiamo davanti alle telecamere Bene, iniziamo subito questa nostra puntata speciale con quello che è l'argomento che sta facendo un po' da filo rosso a questi nostri incontri che sono le Paralimpiadi E' stata un'esperienza di livello internazionale come non mai abbiamo avuto migliaia e migliaia di persone che sono state coinvolte in un'attività, in uno sport che è quello Paralimpico che non ha mai avuto così tanto ecco come quest'anno Inizierei proprio da te Marco, volevo sapere la differenza tra questa Paralimpiade e le altre visto che tu ormai le hai connezzonate parecchie Sì, a parte 28 anni di militanza in tre federazioni precedenti, federazioni di handicappati, federazioni di disabili, oggi come italiano Paralimpio quindi un'altra realtà organizzativa E' ovvio che avendo partecipato a tante Paralimpiadi ma avendo visto un po' la genesi proprio del movimento Paralimpico nazionale moderno Ripeto, da quando fu riconosciuto dal CONI per la prima volta nell'87 fino attualmente al Comitato Paralimpico riconosciuto dallo Stato quindi con la legge del Parlamento italiano E' ovvio che ci sono... raccontare con poche parole quello che è stata l'evoluzione è quasi impossibile Sotto gli occhi di tutti, parlando soltanto dei giochi paralimpici Sapevo benissimo che Londra avrebbe segnato sicuramente un'epoca diversa, un percorso diverso e così è stato Ma non tanto nell'ambito per quello che appunto concerne il successo, quello che riguarda le medaglie vinte Che anche là siamo andati al di là di ogni aspettativa Ma proprio per il successo organizzativo, mediatico e soprattutto quel successo mediatico che si è avuto il riflesso enorme su tutti i paesi che hanno partecipato E con particolare attenzione all'Italia che in tema di disabilità sportiva non era ancora al passo con i grandi paesi Soprattutto la rigaduta perché abbiamo visto che dalla legge ci hanno mandato però le immagini di quello che è stata una giornata paralimpica Che si è chiusa qualche giorno fa, questo significa che la rigaduta, visto che in piazza c'erano, ecco lo stiamo vedendo Migliaia di giovani, c'erano le scuole, c'erano appassionati Questo significa che non è solo un'immagine ma anche una rigaduta sul territorio, no? Sì, sono le due grandi gambe del movimento paralimpico Lo sport di punta, lo sport di vertice rappresentato dai giochi paralimpici Che sono olimpiadi a tutti gli effetti E poi l'attività promozionale che naturalmente riguarda più del 95% della nostra attività E senza l'attività promozionale non ci sarebbero le paralimpiadi, non ci sarebbero questi grandissimi atleti Quindi è fondamentale per i CIP portare avanti l'attività promozionale di avviamento allo sport E in questo l'INAI è il parte istituzionale più indicato Marco, ha parlato di numeri, il segretario in effetti sono stati dei numeri incredibili per questa paralimpiade Sì, dei numeri incredibili e ci aiutiamo anche con le schermate che abbiamo già proposto Ma che facciamo rivedere partendo dal primo contributo Quindi numeri legati alla edizione di Londra E chiaramente partiamo col dire che è stata molto più partecipata delle Olimpiadi Perché dal punto di vista televisivo si è notato come non c'è stato un posto vuoto Durante le gare delle paralimpiadi, cosa che invece non è accaduta durante le Olimpiadi E' chiaro che Londra era il posto migliore per accogliere questa edizione E si è visto anche come riscontro mediatico La cosa che magari vorrei approfondire con i nostri ospiti Mentre aspettiamo le prime schermate Dovremmo avere una schermata che dà la regia di Vantalla Quelli sono stati i numeri di questa paralimpiade Perché se non sbaglio sono stati quasi 3.000 volontari Sia per la cerimonia di apertura che per quella di chiusura Parliamo di quasi 2.500.000 di biglietti venduti Quindi dei numeri importantissimi che sono questi Per la quindicesima edizione dei giochi paralimpici estivi I 4.200 atleti partecipanti Quindi vedete le oltre 500 gare disputate Sicuramente un'edizione che ha avuto dei numeri importantissimi E ha portato delle medaglie pesanti 28 e le vediamo con la prossima grafica Dove l'ha fatta da padrone sempre il ciclismo Da cui si aspettava questo contributo Nonostante sia stata una delle discipline Che ha vissuto una vigilia tra le più agitate Se così si può dire E poi a seguire tutte le altre Diciamo ne sono uscite alcune rispetto a Pechino Ne sono entrate altre Si è potenziata tantissimo l'atletica leggera Nel numero di medaglie portate a casa E vediamo con l'ultimo contributo Un raffronto con l'edizione di Pechino Perché si può vedere sicuramente un sensibile incremento Dal punto di vista delle medaglie portate a casa Dal punto di vista del piazzamento Nel medagliere finale Anche se le discipline andate a medaglia Sono state di meno Ora, la mia domanda La prima domanda per il segretario De Sanctis è questa Innanzitutto qual è il futuro del CIP? Perché sono 30 anni che vivi i cambiamenti Del movimento paralimpico E probabilmente ci apprestiamo in questo quadriennio Ad un ulteriore cambiamento Con l'anno nuovo ci saranno le elezioni del CONI E quindi ti vado a chiedere Se ci dobbiamo aspettare in tempi rapidi Un assorbimento del CIP da parte del CONI Con la tanto chiacchierata elezione di Luca Pancalli A segretario generale E quindi come si andrebbe a strutturare in questo caso L'attività paralimpica in questo quadriennio Che porterà a Rio Sì, i cambiamenti, l'ho detto Sono proprio il pane e il sale di questo movimento Perché? Perché è un movimento che è giovane È un movimento che si è strutturato Ripeto, a fine degli anni 70 Addirittura c'era l'Anspi Che era un'associazione nazionale Che ha preceduto la FISA FISA, FISD Sempre cambiamenti Scorporazione dei sordomuti Poi sono stati ripresi La FISD Quando parlamo di FISD nel 90 Parlavamo di tutte le La riunione, quindi l'assemblamento Di tutte le tipologie di handicap Quindi naturalmente avremmo ricompreso Nell'ambito della stessa sigla I ciechi, i sordomuti, i fisici e i mentali Qualcosa allora di eclatante Poi non ci bastò Perché naturalmente c'è il discorso delle discipline Erano tante discipline Quindi la FISD poi gestì le discipline Quindi sparì la differenziazione Per tipologia di handicap Era giusto che così fosse E naturalmente ci fu la grande idea Di mutuare un po' quello che era il percorso Il sistema organizzativo del CONI Che era vincente Che è stato vincente Ed è stato vincente anche per il CIP Perché naturalmente anche queste 28 medaglie Sono il frutto di quella riorganizzazione Di quella ristrutturazione È ovvio che Possiamo avere Perché poi le cose non sono ancora fatte E avremmo potuto avere Dopo Londra Due alternative Cioè proseguire con il CIP Per rafforzarlo sempre di più Qualora ce ne fosse stato bisogno E oggi è veramente una realtà Non solo conosciuta Ma una realtà affermata E soprattutto considerata Oppure fare il salto di grande qualità L'ultimo salto credo a questo punto Perché poi evoluzioni Non ne vedo all'orizzonte Quello appunto di riunire Sotto l'unica sigla Cioè non l'assorbimento del CONI Ma un comitato olimpico e paralimpico Cioè un unico organismo Ripeto con i due movimenti Sicuramente è molto più grande Più vasto quello olimpico E con le proprie dimensioni Con le proprie capacità e competenze Quello paralimpico Non si rischia di perdere l'identità Mi permetto Ma l'identità la puoi perdere Da un punto di vista di sigle Di loghi che poi tra l'altro rimarrebbero Perché si tratterebbe eventualmente Di un comparto pubblico Di un settore pubblico Chiamiamolo come vogliamo All'interno di un unico organismo Con la propria autonomia Senza autonomia È ovvio che si perderebbe tutto Però da un punto di vista culturale Ci sarebbe un salto in avanti Credo enorme Strepitoso direi Quasi inimmaginabile Perché? Perché il CONI Non solo è conosciutissimo Ma CONI e CIP insieme Per quanto mi concerne E parlo naturalmente A sfavore di quella Che è una mia posizione Che perderei Proprio alla luce di quello Che stavi dicendo Sull'eventuale inserimento Di Luca Pancalli O nomina di Luca Pancalli A segretario generale Ma quello che conta Lo dico sempre a tutti Ai miei atleti Lo diceva D'Alessio Non contano le poltrone Non contano Assolutamente i personalismi Io ho finito La mia carriera Può pure continuare Però dopo 28 anni 15 anni che faccio Il segretario generale Veramente sono soddisfattissimo Altro non chiedo Per cui vedo un percorso In quel senso Lo vedo Sono preoccupato Ho molte Molte preoccupazioni Molto complesso Però la cultura Impone questo Cioè il senso Di civiltà Di cultura E di progresso Che deve contraddistinguere Tutti gli uomini Deve andare Verso quella direzione Stiamo vedendo Proprio le immagini Di quello che era Londra E quello che è stato Direttore Superabile Era lì Quindi queste immagini Le abbiamo Grazie alla presenza Di Superabile Proprio in tutto il periodo Della Panalimpiade Vorrei un'impressione Su quella che è stata L'organizzazione Anche da un punto di vista Dell'accoglienza Visto che E dell'integrazione Visto che sono le due parole D'ordine anche di Superabile Londra Non poteva Non poteva non esserci Superabile Secondo me Perché Come l'abbiamo vissuta noi Quello che abbiamo trovato Era proprio Superabile Nel senso Dello spirito Della filosofia Che noi mettiamo In tutte queste trasmissioni Abbiamo cercato Di raccontare Un po' Lo spirito Di integrazione Che prima ancora Che lavorativa E sociale E culturale Ecco noi abbiamo trovato Una città Londra Totalmente diversa Da quella che ci aspettavamo Nel senso Io l'ho detto anche Nel convegno Che abbiamo fatto A casa Italia Il 31 agosto Noi ci aspettavamo Di trovare una Londra Ostile Fra virgolette Nel senso che L'anno prima Siamo stati lì Con una piccola truppa E abbiamo avuto Tantissime difficoltà A fotografare A riprendere Con poliziotti Che ci fermavano Ogni momento Questa volta invece Portando anche Una truppa massiccia Dobbiamo arrivare A breve anche A fare una docu fiction Di questa esperienza Dicevo con questa truppa Invece siamo stati accolti In tutte le strade Con la gente che ci fermava I poliziotti Che facevano Le fotografie con noi E tutta la gente Che si informava Ci fermava Perché ci vedava Il cartellino al collo Di cosa stavamo facendo Come andavano le paralimpiadi Veramente Credo che sia giusto Quello che ha detto Sebastia Anco Alla fine Che non sarà più La stessa cosa Dopo Londra E noi ce ne accorgiamo E siamo In qualche modo Vediamo Che quei semi Che noi seminiamo Come superabili in Italia Che appunto È soprattutto Una cultura dell'accoglienza Dell'integrazione Di laboratorio Delle diversità Ecco gli inglesi Con questa occasione Grazie allo sport L'hanno anticipato Ed è un modello Che noi vorremmo raccontare Appunto spero In una buona docu fiction Che faremo a breve Con tutto il materiale Che abbiamo Che abbiamo mostrato In parte anche In questa trasmissione